Buongiorno e ben ritrovati in seconda edizione del nostro telegiornale per questa mattina. Apriamo sempre con l'alarma dell'Istituto Superiore della Sanità. Il rischio è di una epidemia incontrollata e non gestibile. Intanto altre cinque regioni sono state dichiarate in fascia arancione. L'IS fotografa una situazione pandemica in netto peggioramento. Insieme al Ministero della Sanità raccomanda alle regioni di anticipare le misure previste per un livello di rischio alto. Uno scenario 4 che potrebbe presto coinvolgere la gran parte del territorio. Il documento giunge dopo la firma delle ordinanze con cui Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria passeranno da zone gialle ad arancioni. E la provincia di Bolzano che aveva già deciso autonomamente questa misura a zona rossa. E oggi si deciderà invece sulla Campania. Come sempre dopo il fine settimana sono di meno i contagi. Sono 25.271 a fronte di però meno tamponi. Stesso dicasi anche per la situazione in regione. Gli ultimi dati infatti ci parlano di 320 nuovi contagi con 2.324 tamponi eseguiti e 5 decessi da Covid-19. Sono però come vedete dalla grafica molti i tamponi in meno. Sono circa la metà come ogni fine settimana. Attualmente i positivi sono 7.929. 320 contagi giornalieri. Quindi nelle ultime 24 ore. Poi nel pomeriggio arriveranno i dati più recenti. 46 persone in terapia intensiva. Più una rispetto alla giornata precedente. 319 invece gli ospiti di altri reparti. 7.467 le persone in isolamento a casa e i morti sono 5 nelle ultime 24 ore. E nelle ultime ore c'è stato un dibattito fra i rappresentanti della categoria degli anestesisti e rianimatori e invece i direttori dei vari reparti delle aziende sanitarie della regione. Perché è arrivato un comunicato allarmistico che parla di una situazione totalmente fuori controllo per quel che riguarda le terapie intensive regionali, senza posti e con personale ormai allo stremo. La firma è di Alberto Peratoner, quindi per la sigla sindacale che riunisce questi medici in cui si parla di assenza totale di posti letto dedicati, di un personale specializzato che non c'è e poi è arrivata invece una rettifica a firma, una smentita ufficiale a firma dei direttori dei dipartimenti di anestesia e rianimazione degli ospedali di Pordenone Trieste e Udile. Allora per fare chiarezza sulla situazione delle reparti di anestesia e soprattutto di terapia intensiva a questo punto interpelliamo direttamente Amato De Monte che è in collegamento con noi via Skype il direttore di anestesia e rianimazione di Udile per cercare di capire qual è la verità, com'è la situazione dei nostri ospedali. Buongiorno dottore. Pronto? Buongiorno, mi sentite? La sento bene, mi sente dottore, professore? Sì, mi sento, bene, perfetto, mi dica? Vorrei sapere esattamente qual è la situazione delle terapie intensive a Udile ma anche negli altri ospedali. Ho appena raccontato che c'è stata questa dichiarazione di Alberto Peratonner che riunisce le sigle sindacali dei medici di anestesia e rianimazione. Si parla di una situazione molto critica, poi invece è arrivata la vostra smentita. Com'è la realtà della situazione sui posti letto delle terapie intensive? La smentita è molto semplice perché quello che ha scritto Alberto Peratonner è scritto in una maniera, diciamo che sicuramente è falso perché quello che dice afferma delle cose che non sono state mai richieste e ne sono mai state approvate. Cioè lui dice che dobbiamo avere approntati in terapie intensive in Friuli, Venezia Giulia 175 posti letto di terapia intensiva dedicati agli ospedali Covid. Questo non è stato mai detto da nessuno, non è stato mai chiesto da nessuno e non corrisponde assolutamente alla realtà. La realtà dei fatti consiste è così. Il Ministero, a seguito della pandemia, ha imposto, ha chiesto alle regioni di aumentare del 50% i posti letto delle terapie intensive regionali. Ora, la nostra dotazione di terapie intensive in ambito regionale alla data dello scorso febbraio, prima dell'inizio della pandemia, ammontava a 120 posti letto ufficiali. Quindi il Ministero ha imposto alla Regione di aumentare di 55 posti i posti letto di terapia intensiva. Posti letto di terapia intensiva che devono essere dedicati sì ad accogliere i pazienti Covid, ma anche per accogliere gli altri pazienti che necessitano per varie motivazioni, arresti cardiaci, traumi, incidenti, postoperatori. Quindi il risultato, evidentemente, spiace che anche un rappresentante del sindacato, che anche il mio sindacato, faccia delle dichiarazioni che si prestano a essere malinterpretate. Dico malinterpretate perché non voglio scendere ulteriormente nella pesantezza della definizione, che si capisce che non approvo ovviamente quello che è stato fatto, perché rischia di ingenerare panico e malinformazione nella popolazione che in questo momento è tutto di cui assolutamente dobbiamo farne a meno. Più panico c'è, peggio è la situazione. Attualmente i posti letto, ripeto, se fosse vera la tesi di Peratonner, avrebbe significato che noi in questo momento dovremmo avere in regione non 175 posti, ma dovremmo avere 175 posti letto intensivi per i pazienti Covid, più gli altri 120, cioè quasi 300 posti di terapia intensiva. Una cosa che in pochi mesi non può essere fatta da nessuna parte e una cosa totalmente irrealizzabile. Quindi quello che invece è vero è che la situazione è grave. Che la situazione sia grave non lo dico io, non lo scopro io, ma lo scopriamo regolarmente dai numeri che salgono. Ma non è grave in Friuli, è grave dappertutto. Spero di aver fatto un po' di luce su questa cosa perché veramente non possiamo andare a seminare panico e disinformazione tra la popolazione, scusi il tono, ma veramente questa cosa è inaccettabile perché proprio viene fatto in un momento che non era stato richiesto poi da nessuno. Non era stato richiesto da nessuno. Noi abbiamo in questo momento a Udine 21 pazienti Covid nelle terapie intensive, oltre a 16 posti già occupati per altre patologie. Noi l'anno scorso, sei mesi fa, avevamo 11 posti letto in meno di terapia intensiva. Oggi ci troviamo ad avere, a gestire con lo stesso personale, con lo stesso medico, la bellezza di 40 pazienti in terapia intensiva. 38, via. E quindi tutte le altre strutture anche della regione si stavano dotate dell'apparecchiatura per attivare questi posti letto. Se poi parliamo del personale, questo è un altro tipo di discorso, ed è chiaramente, vi ricordo anche che lo scorso primavera, per affrontare le emergenze Covid, tutte le altre attività erano state sospese. Mentre adesso si sta facendo tutti gli sforzi possibili ed immaginabili per non sospendere l'attività, come indicato dalla regione, le attività legate alla garanzia delle urgenze, delle emergenze, delle patologie tumorali e anche di patologie che richiedono trattamenti di alta specializzazione. Certo, dottore, quindi abbiamo capito, in poche parole non è una questione di posti, i posti ci sono, non sono interamente dedicati ai pazienti Covid, vengono ricoverati anche altri pazienti che hanno necessità di un trattamento intensivo, però i posti letto ci sono con le apparecchiature dedicate. È più che altro un problema di personale, questo lei ci dice, il personale è sotto sforzo, ormai da tantissimi mesi, giusto? Sì, me lo dicono, chiedono sempre che noi facciamo degli sforzi organizzativi per trovare gli orari, dobbiamo fare gli orari di giorno in giorno, le persone anche si ammalano, la situazione sappiamo che è drammatica e che è difficile. Tutto abbiamo bisogno, ripeto, fuorché del panico. Il personale lo sappiamo che è all'estremo delle forze, tutti però devono, non abbiamo scelta, non abbiamo scelta però, non abbiamo scelto noi il virus, il virus tra l'altro non risponde a nessun tipo di contratto, usa gli orari che vuole e fa quello che vuole. Non abbiamo altra scelta che combattere. Ecco, un'altra cosa che le chiedo, a questo punto la situazione a Udine, quanti posti liberi vede per l'eventuale accoglimento, se dovesse crescere la curva di pazienti che hanno necessità di questo tipo di trattamenti? Noi ci stiamo attrezzando e stiamo ripercorrendo esattamente il percorso che avevamo fatto la scorsa primavera, cioè oltre ad avere attivato questi dieci posti letto, che sono stati dieci posti letto ex novo. Abbiamo di nuovo riaperto, è stato di nuovo riaperto il reparto di semi intensiva che verrà gestito, che viene gestito attualmente in comunione assieme da anestesisti e pneumologi e di nuovo le sale operatori della neurochirurgia sono state liberate per poter attivare lì ulteriori posti letto di terapia intensiva per rispondere alle esigenze. Quindi con questi posti letto arriveremo veramente poi anche nei altri ospedali esterni della regione, dell'azienda si stanno potenziando i posti letto, per cui dove potremo però trasferire non pazienti Covid, ma pazienti della terapia intensiva generale che possono essere trasferiti in altre strutture dell'azienda. Quindi la riorganizzazione sta funzionando, ci vorrebbe magari l'apporto di forze fresche, ma questo è un problema che non riguarda ovviamente solo la nostra regione, dottore? Ma le forze fresche si stanno facendo, ad esempio sono stati implementati le assunzioni degli specializzanti al terzo anno e al quarto e quinto anno, per cui certamente si sta cercando di dare la risposta che è possibile dare, però ovviamente con le forze che ci sono e con le disponibilità che si hanno davanti a una situazione che nessuno poteva prevedere. Benissimo, grazie professore, buon lavoro a lei e a tutta la sua equip e grazie anche per i chiarimenti, speriamo di aver fatto un po' di luce sulla situazione degli ospedali e delle terapie intensive a Udina. Grazie a voi, grazie a voi. Andiamo avanti con il nostro notiziario, perché prima alle 10 nel corso dell'edizione precedente siamo andati a vedere una realtà molto particolare, quella di un ristorante che lavora da anni per l'integrazione di ragazzi diversamente abili e bene, proprio in diretta, ci hanno detto che probabilmente entro quest'anno chiuderanno e noi vogliamo rilanciare a questo punto un appello. Sentiamo Monica Nardini nell'intervista che è andata a realizzare al Benzacchi in Cormoralto. Noi purtroppo diciamo che, non so se lo posso dire, ma forse probabilmente a fine dicembre stiamo optando alla soluzione di chiudere. Mamma mia, ci dà una brutta notizia. Speriamo di no, speriamo di no, che ci sia ancora margine. Vi do questa brutta notizia, no, è una consapevolezza del momento, insomma. Abbiamo deciso forse probabilmente di fermarci per vedere un ulteriore futuro diverso, ecco, questo sì. Però è una decisione che abbiamo preso e purtroppo è così. Molto probabilmente ci fermeremo per dare vita, possibilità a fare qualcos'altro. Però in questo momento abbiamo, al di là del Covid, del BCM e tant'altro, c'è tanta burocrazia che ci sta attanagliando. La burocrazia continua ad essere uno degli ostacoli principali. Sì, ci sta attanagliando perché è vero che è stato sospeso, però quando è arrivato il momento di far fronte alle spese e quant'altro, non è cambiato nulla, questo purtroppo bisogna dirlo. Abbiamo avuto un sostegno minimo da parte della Regione, da parte dello Stato, però non tanto da poter affrontare completamente tutta la nostra attività. E quindi il pensiero di chiudere è anche ancorato a questo, non solo per il Covid. E questa è la decisione, speriamo, non è definitiva del Benzacchi. A questo punto noi ovviamente rivolgiamo un appello, come abbiamo fatto nel corso dell'edizione precedente. Se ci può essere qualcuno che vuole aiutare effettivamente questa bella realtà. E poi altre chiusure a livello commerciale. In centro a Udine è terminata l'esperienza del marchio H&M, come era peraltro già noto da tempo, perché l'azienda di abbigliamento svedese Low Cost ha deciso di chiudere il punto vendita di via Canciani, che impiegava 14 lavoratori. Infatti ieri, a seguito di una riorganizzazione pianificata da tempo, si sono abbassate le serrande. Vedete le immagini che abbiamo realizzato proprio pochi minuti fa. Le serrande che si erano alzate ormai da quattro anni, comunque nell'Udinese, rimangono aperti gli altri store, quello al Cittafira di Martignacco, al Bennett di Pradamano. Stessa cosa però è successa anche per il negozio, lo store di Gorizia, sempre in centro storico. Anche qui 12 persone hanno perso il lavoro, una chiusura, quella in corso Giuseppe Verdi. Quindi il marchio H&M chiude nei centri storici, continua a rimanere aperti invece nei centri commerciali dell'Udinese e del Goriziano. Adesso invece ci spostiamo a San Daniele, dove c'è una situazione particolarmente curiosa, anche se difficile da gestire. C'è la nostra Monica Nardini che si è spostata proprio nel collinare per raccontarci un problema che è sorto proprio per la pandemia. E riguarda il circo. Monica, a te la linea. Sì, siamo negli spazi dove appunto si era collocato anche nei giorni scorsi il circo Armando Orfei per proporre i suoi spettacoli, il circo che è rimasto bloccato in conseguenza delle ultime misure anticoronavirus predisposte dal governo. Mi trovo in compagnia proprio del titolare, il signor Armando Orfei, che ringrazio di essere qui con noi. Dunque, siete bloccati a San Daniele del Friuli? Siamo bloccati a San Daniele del Friuli fino al nuovo provvedimento che è il 5 dicembre. E non sappiamo ancora se ci sarà una ripartenza. Noi ci lavoriamo tanto di cuore perché siamo veramente in difficoltà senza lavoro. Volevamo ringraziare l'amministrazione comunale di San Daniele del Friuli, sindaco in primis, e tutta la popolazione che veramente si sono prestati, vengono in aiuto, cercano di rendersi disponibili per ogni nostra esigenza. Noi vogliamo ringraziare veramente di cuore. Ecco, siete una trentina di persone bloccate al momento, 7-8 nuclei familiari. Esatto, siamo una trentina di persone, con diversi, una quarantina, 50 animali al seguito. Ne vediamo alle nostre spalle tre tigri. Sì, abbiamo i tigri, abbiamo dromedari, abbiamo cavalli, minuque scozzesi. Il sindaco ci ha fatto arrivare dei rotoli di fieno un po' di giorni fa, alcune altre persone si sono esposte loro, venite a prendere il fieno, abbiamo una fattoria qua intorno nella zona. E niente, stiamo tirando avanti. È il secondo lockdown che becchiamo. Il primo è stato molto pesante, quattro mesi e mezzo. Alla tisana, sempre nella provincia. Praticamente noi ci auguriamo tanto di cuore di poter fare i nostri spettacoli, almeno a dicembre. Che ci sia una riapertura un po' per tutti, perché siamo un po' tutti in difficoltà. A dicembre era prevista una serie di spettacoli a Udine. È prevista al momento. Era prevista per dicembre le festività natalizie. È tutto in stand-by per il momento. Vedremo. Per quanto riguarda anche il sostegno da parte del governo, anche la vostra realtà e cerchi comuni, cosa possiamo dire? Allora, è molto difficoltoso perché aiuti questo circo non ne ha avuti. Né nel primo lockdown, in questo non lo so pre ancora dire. Noi ci auguriamo che il nostro governo ci metta la manina sul cuore e ci dia un po' un aiuto finanziario, perché sinceramente il circo italiano oggi ha veramente bisogno di questo. Perché non ci sono stati aiuti al momento? Ma perché diciamo, i soldi sono stati erogati pochi e non tutti sono riusciti a recuperarli, perché bisogna avere le caratteristiche in regola per prendere questi soldi. Mentre che, visto che è una pandemia e ci hanno fatto chiudere, l'aiuto andava dato ad ogni attività che è in difficoltà, che è stata fatta chiudere. Attività in difficoltà anche dalle precedenti decisioni. Possiamo per esempio parlare dell'impatto che ha avuto sui posti a sedere, nel tendone, anche il distanziamento. Diamo un'idea di quanti erano i posti nell'ultimo giorno. Questa è una struttura che nella sua piena forza ospita 1.350 persone in piena capienza. Ci hanno concesso 200 persone e noi gli spazi, i sanificatori, il personale con le mascherine, i distanziamenti, siamo stati perfetti. Dimostra il fatto che, in un sondaggio che hanno fatto, il mondo dello spettacolo, circo, concerti, spettacoli dal vivo, c'è stato un contagio in quattro mesi di attività, di ripresa via. Quindi, insomma, fa riflettere se non altro questo dato. Certo, fa riflettere. Esatto, perché c'è veramente voglia della gente di tornare a divertirsi, le famiglie di passare una giornata tutti insieme. Signor Armando, io non posso anche chiederle sulla fronte del benessere animale, anche della sicurezza per la popolazione qua a San Daniele del Friuli. Cosa possiamo dire anche? Che è tutto a posto, noi abbiamo i nostri piani di fuga, queste cose qui, abbiamo il personale che ha una certa esperienza per quanto riguarda gli animali, sottoscritto in primis, di conseguenza di stare tutti sereni e tranquilli perché non vi è alcun pericolo. Sono costi comunque ingenti, anche indotti dalla presenza di questi animali. Molti si chiedono anche perché si continui magari a puntare sugli animali, a non puntare magari sulle acrobazie. Noi portiamo avanti una tradizione familiare, che io vengo dalla settima generazione, e portiamo avanti uno spettacolo anche di artisti, di acrobati. Non a caso il nostro spettacolo più della metà è basato sugli acrobati, gli artisti, quindi è un mix e via diciamo. E poi questa è la scelta degli animali, è una scelta che noi ci portiamo avanti col tempo, nel senso che ce la tramandiamo a tappare in figlio. Poi dopo si vedrà, queste sono tutte cose che... Un'ultima cosa, signor Armando, avete stato cercando di organizzare un evento in streaming con l'amministrazione comunale? Io e il sindaco abbiamo parlato di poter fare una cosa di questo tipo, adesso appena lui avrà un attimo di poterci ragionare, perché è molto impegnato in questo periodo, vedremo un attimo di poter fare un qualcosa. Allora ci riaggiorneremo. Grazie intanto per l'ospitalità qui, Valentina da San Daniele è tutto. Grazie, grazie Monica, grazie anche a Nando Orfei. Adesso passiamo alla cronaca di Matriese, dove un uomo ha violato il divieto di avvicinamento all'ex compagna, uno stalker è stato arrestato. Sentiamoci, racconta tutto Luciane Delfonso. Viola la misura del divieto di avvicinamento nei confronti dell'ex compagna e viene arrestato. L'aveva pedinata, insultata, maltrattata. Le aveva impedito di uscire in compagnia. Addirittura nel sonno le aveva puntato una scacciacani al petto, facendo delle foto con il solo intento di terrorizzarla. Mesi di paura per una donna di Trieste che, esasperata dai comportamenti del fidanzato, aveva deciso di interrompere la relazione, trovando la forza di rivolgersi agli agenti del commissariato di San Sabba. Qui la malcapitata aveva denunciato quanto accaduto, facendo scattare le indagini condotte dal settore anticrimine. Le verifiche sono state avviate ad agosto a seguito della querella della donna, con l'uomo che si era addirittura introdotto nella sua abitazione senza alcun permesso, lasciandole un bastone animato. Successivamente la vittima aveva trovato appese, su diversi pali della luce della città e sulle fermate degli autobus, delle fotografie ritraenti il proprio volto, a cui si aggiungevano delle scritte, in alcuni casi anche ingiuriose. Gestoc ha permesso agli agenti della polizia di avviare un'intensa attività di visualizzazione delle telecamere comunali installate in alcuni punti di interesse della città, riscontrando in più occasioni lo stalker intento nel posizionare i ritratti della donna. Proprio per questo il PM titolare del fascicolo ha richiesto e ottenuto dal GIP di Trieste l'emissione di ordinanza applicativa degli arresti domiciliari. Torniamo a Udine con un'esplosione in via Volturno. Questa mattina sono accorsi i vigili del fuoco molto presto per una detonazione avvenuta nella cucina di un appartamento al Civico 17, al secondo piano di via Volturno. All'interno dell'abitazione stavano dormendo due persone che sono rimaste illese. Lo stabile si trova proprio di fronte all'ingresso della resede regionale del capoluogo friulano. Danni importanti alla struttura, lo vedete dagli scatti, l'intervento delle vigili del fuoco, sono in corso gli accertamenti da parte dei pompieri per capire che cosa possa aver causato questa fiammata che ha investito la cucina di questo appartamento, lo ripetiamo, in via Volturno 17 al secondo piano sul posto anche gli agenti della questura. Poi le operazioni dei carabinieri con Udine, una denuncia di un 42enne residente in città che nonostante fosse sottoposto a isolamento sanitario, quindi era in quarantena perché positivo al Covid-19, è stato sorpreso a piedi in via a Popone, l'uomo è stato quindi denunciato e poi anche sanzionato amministrativamente con la contravvenzione di Euro 400 per la violazione del DPCM e poi ancora controlli di alcol test in varie zone della nostra provincia e anche diverse denunce perché in stato di libertà sono stati denunciati un 42enne di Martignacco, aveva 1,90 di alcol nel sangue, un 76enne di Mereto di Tomba con 1,08, un 22enne di Ragogna con 1,66, un 51enne di Paluzza trovato a Tavagnacco con 1,97 e un 42enne di Maiano trovato con un tasso di 1,01. Invece vi comunichiamo anche la chiusura degli sportelli dell'ufficio protocollo e delle relazioni pubbliche del comune di Udine, lo ha resonato direttamente l'amministrazione tramite la pagina Facebook per un intervento urgente di sanificazione dei locali, resteranno temporaneamente chiusi gli uffici in via Leonello al secondo piano a causa di un urgente intervento di sanificazione gli utenti che hanno necessità di consegnare documenti potranno spedirli via PEC all'indirizzo protocollo chiocciolapeccomune.udine.it o tramite posta raccomandata. Ed ora invece spostiamoci ai campi del Bruseschi dove vedo già pronto Lorenzo Pausa Buongiorno Lorenzo, ben ritrovato, a te. Eccoci collegati dalla Bruseschi, Valentina, ben ritrovata anche a te e a tutti i nostri telespettatori. È in corso la seduta mattutina dell'Udinese che si è ormai immersa a pieno in questa prima settimana di lavoro in vista della ripresa del campionato che avverrà tra due domeniche, quindi dopo la sosta delle nazionali. Ieri si è svolta una seduta prettamente di stampo atletico, oggi invece già si vedono i primi meccanismi tecnico e tattici. È ovvio quindi che Gotti in questi giorni avrà tempo e modo di sperimentare al meglio, di mettere a punto tutti quelli che sono i meccanismi dei diversi moduli di gioco che si sono anche visti nel corso delle precedenti partite, dal classico ormai collaudato 3-5-2 fino invece ai moduli sperimentali con difesa 4 e con il tridente offensivo, in modo che poi alla ripresa delle ostilità potrà decidere quale schieramento adottare in base all'avversario che si ritroverà di fronte, in base ai giocatori che avrà a disposizione e alle loro condizioni. I giocatori che quindi avranno modo anche di recuperare pian piano il loro massimo stato di forma così come gli infortunati che piano piano stanno ritornando nel gruppo. Vi abbiamo già detto ieri di Wallace e di Sebastian Prodl che hanno ricominciato ad allenarsi in campo, seppur in forma individuali. Sono già ritornati invece anche a giocare, anche a pieno regime, i vari Musso, Struger-Larsen e Neutink che hanno tornato a dare un po' di sicurezza alla squadra, soprattutto sul fronte difensivo. E proprio Brian Neutink ieri è stato l'ospite di Udinese Tonight, la trasmissione, il talk show bianconero in onda come sempre lunedì sera condotto da Giorgia Bortolossi. Brian Neutink ha parlato quindi della situazione nel proprio reparto ma ha ribadito ulteriormente, come aveva già fatto Rodrigo De Paul in occasione della gara con il Sassuolo, lo stretto rapporto di fiducia esistente tra i giocatori e il mister. Ascoltiamo allora Brian Neutink e Paulina allo studio. Quando vogliamo prendere punti dobbiamo segnare, fare gol. Questo è importante ma anche in difesa dobbiamo essere un po' più concentrati, penso. Questo è importante ma c'è una cosa di positività perché ultimi anni, scorso anno, due anni fa, tre anni fa, all'inizio del campionato non abbiamo creato molto e adesso queste prime sette partite abbiamo creato molto, penso. Quindi dobbiamo segnare, questo è importante e penso anche dobbiamo essere un po' più, come si dice, dobbiamo giocare con un po' più grinta e sì, adesso venerdì abbiamo giocato così insieme e compatti e per noi questo è importante. Quando prendi pochi punti sei un po' preoccupato ma il mister è sempre tranquillo e lui dà molta fiducia alla squadra. Io sono anche felice con lui, la squadra è felice con lui perché io penso che finalmente abbiamo un allenatore così come Goti, lui è sempre tranquillo, lui vuole giocare a calcio, lui è sempre calmo e lui prepara bene le partite e per noi lui è veramente importante. Quindi abbiamo fiducia in lui, lui ha fiducia in noi e quindi io penso che possiamo fare belle cose questo anno. E anche Bram Noiting quindi testimonia ulteriormente la fiducia del gruppo in mister Goti. Noi adesso ci fermiamo qui con questa edizione, ritorniamo alle ore 16, spazio alle previsioni del tempo e intanto buona giornata. A Sudinese TV. Sarà ancora relativamente mite per il periodo nelle ore centrali del giorno con picchi di 16-17 gradi nonostante siamo nel pieno della stagione autunnale. Più in dettaglio tra Gorizia e Trieste i cieli saranno sereni o poco nuvolosi ovunque. Attenzione alla ventilazione, sarà ancora vivace di bora sul triestino. Il tutto in un contesto climatico molto piacevole nelle ore pomeridiane. Con questo è tutto ma per saperne di più restate aggiornati come sempre sulla nostra app gratuita Trebi Meteo. Grazie a tutti.